E' una manifestazione a cui noi teniamo tantissimo perché è una di quelle che noi sosteniamo che viene fatta in periferia, per cui è davvero per noi una iniziativa a cui diamo grande valenza. Consideriamo che interessiamo i territori della terza e della quarta municipalità, con ogni anno un tema che viene sviluppato, quest'anno c'è il tema della disabilità, quindi i corri per i disabili, quindi con il tentativo di mettere insieme realtà sportive e agonistiche più importanti, ma anche con il tema della disabilità, per cui è una cosa a cui noi diamo veramente grande risonanza. Una corsa per abbattere le disabilità. E' l'iniziativa pensata per invitare i cittadini ad abbattere anche con lo sport le barriere legate alle diverse abilità. Una gara polistica organizzata dall'Associazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile, che è già la sua quinta edizione. Come la stessa formula, con partenza dalla Casa di Malbricci, quindi interessa i territori della terza e la quarta municipalità, attraversando, quindi facendo attraversare gli attreti, i territori e strade che di solito non sono mai interessati da percorsi polistici. E poi c'è un'altra importante cosa da dire, che è quella che questa è la prima manifestazione su strada per il dopo-universario, per cui diamo veramente grande valenza e grande soddisfazione a chi organizza questa importante gara polistica della città. È un percorso che investe prevalentemente la quarta municipalità e l'ambisce la terza municipalità, quindi nella zona della Vicaria, nella zona di Via Foria, quindi è anche un percorso un po' fuori da quelli che sono i percorsi canonici del lungomare. E questo è molto bello perché ha capacità di attrarre l'atleta che vuole stare a misurarsi in un territorio che non è sempre così, tra virgolette, ospitale per manifestazioni polistiche.